Anche a te l'universo andrà uno dei riconoscimenti che verranno assegnati all'interno della 24esima edizione del premio Rocca d'Oro. Un momento che si rinnova di anno in anno e che ha come obiettivo quello di premiare le eccellenze italiane e straniere in Italia. La consegna del premio avverrà nella serata di domenica 16 giugno a Piglio, anche se sono previsti anche altri eventi culturali di contorno a Frosinone, tra cui la mostra del noto pittore Giacomo Lisia, una rassegna raffigurante i quadri di tutti i 91 comuni della provincia di Frosinone. Quest'anno ci aspettano due importanti appuntamenti, una a Frosinone con la mostra di Giacomo Lisia perché si metteranno in mostra verso il palazzo delle poste i 97 quadri del grande artista paglianese che ha realizzato negli anni 75-82 e poi a Piglio il giorno 16 quando faremo la consegna dei premi. Il momento clou della tre giorni sarà senza dubbio però la consegna dei riconoscimenti per il premio Roccadoro con la presenza di personaggi di primo piano. C'è Bad Spencer e Giuliano Gemma ma c'è anche il dottor Carlo Salvatori che è un personaggio del mondo dell'economia, ci sono altri personaggi delle ambasciate, c'è l'ambasciatore della Zebagian, l'ambasciatore della Turchia, paesi in sviluppo che stanno crescendo, c'è il cardinale Saraiva. Per l'occasione ci sarà anche un annullo speciale emesso da poste italiane su cartoline realizzate dal maestro Luigi Centra, autore del logo del premio. Io ho realizzato il castello dell'antica corte dei Depileum e in più ho fatto la vigna, questi vini che noi dobbiamo mandare dappertutto. Il premio Roccadoro 2013 è stato presentato venerdì mattina nella sala convegni della Camera di Commercio di Frosinone. Le nomination del premio inoltre sono state però presentate anche a Roma presso il club Freccia nella stazione Roma Tiburtina. Questa è stata anche l'occasione per la presentazione di una collaborazione importante tra la provincia di Frosinone e Ferrovie dello Stato. A partire dalle prossime settimane infatti la passerina del Piglio sarà bevuta sui treni Freccia Rossa. Piglio dunque sarà conosciuta in tutta Italia come la città del vino.